allora cominciamo questo video qui siamo nella zona di riglione anzi mettiamolo così così meglio siamo nella zona di riglione qui di solito l'arno non è a questa altezza ma è almeno 5 metri meno come vedete dalla parte opposta dell'argine siamo veramente alle sgocciole mentre qui l'arno mi avvicina fino a qua perché non vorrei è proprio dove vedete la mia ombra fate conto la mia ombra sarà circa 3 metri e quindi ci sarà manca proprio poco a esondare insomma non è che la se non si vede proprio male dovrebbe esserci una camionetta penso dei pompieri non ne sono sicuro però quelli che sentite invece sono camionette sono proprio pompieri perché la situazione qui a pisa dell'arno è un po preoccupante andiamo a fare un giro dalle altre parti eccoci qua eccoci qua eccoci qua eccoci qui siamo sulla cittadella proprio dentro la cittadella nel punto più basso comunque diciamo è tutto abbastanza sotto controllo quindi la situazione sembra abbastanza regolare non ci dovrebbero essere i rischi adesso facciamo un salto a vedere il fiume serchio per vedere come siamo messi